Si svolta domenica nel crossrodromo dell'ASD Cavaleri Off-Road incontrata a Gianrizzo a Favara la settima prova del campionato regionale motocross FMI. La competizione sportiva ha visto la partecipazione di 96 piloti provenienti da tutte le province siciliane. Dopo le operazioni preliminari al via alle gare che si sono suddivise in due mangi per categoria, il caldo e la polvere non hanno sicuramente scoraggiato i tanti appassionati delle due rote che hanno assistito alla Kermess. A vingere nella categoria Elite il pilota Nesseno Eros Doria su Honda 450, campione italiano 2010. Ottima prova del pilota di casa Antonio Cavaleri che ha primeggiato nella categoria Master Rover 40 MX1. Gli altri piloti del team Cavaleri Off-Road, Calogero Iacolino e Piero Pendolino, si sono piazzati rispettivamente quinto della categoria Over 21 MX2 e secondo della categoria Hobby MX2. Mentre Salvatore Chianetta nella categoria Minicross 85 si è piazzato terzo, posto che gli è permesso di mantenere il primato nella classifica regionale di categoria. I centauri favaresi saranno impegnati il prossimo 27 nel crossodromo di Carlentini, in provincia di Siracusa per l'ottava prova di campionato regionale FMI. E il 7 novembre prossimo invece nella pista di Caltagirone dove si concluderà la stagione agonistica.